Salve a tutti e benvenuti su Codacons TV, la tv del consumatore. È nostro ospite l'ingegner Massimo Iossa, responsabile marketing e qualità di Autostrade per l'Italia, con cui parleremo delle procedure di conciliazione. Dottor Iossa, Autostrade per l'Italia, aderito a un protocollo di intesa e accettato di partecipare a procedure di conciliazione per risolvere le controversie con i consumatori. Di cosa si tratta? Si, l'ha già detto lei, si tratta di un tentativo di trovare un accordo, gli avvocati lo chiamano un accordo stragiudiziale, quindi in realtà senza il coinvolgimento di figure professionali, fra clienti e Autostrade per l'Italia, su temi che possono aver causato danni o disservizi. Faccio un esempio, si tratta di casi in cui ad esempio i clienti possono aver avuto un problema con la sbarra del telepass, in alcuni casi non necessariamente per colpa nostra, comunque può capitare che ad esempio una macchina urti contro la sbarra del telepass, oppure nel caso in cui ci siano contestate la presenza di buche o di animali dispersi, di buche o di oggetti dispersi sull'autostrada o animali, oppure soprattutto applicazioni non corrette di quelle che sono le procedure legate al telepass, quindi a contratti, a promozioni, a restituzioni, a sostituzioni, quindi a tutto quello che riguarda il telepass. In sintesi quindi si tratta di mettersi a tono un tavolo, discutere e vedere se il distervizio causato al cliente può essere risolto in via stragiudiziale, cioè senza il coinvolgimento di avvocati, ovviamente questo significa anche anche dare un rimborso, se meritato e se giusto, ai clienti che lo chiedono e se autostrade dovesse riconoscere una propria responsabilità. Ecco appunto, quali controversie quindi possono essere oggetto di conciliazione? Sì, lo dicevo prima, gran parte delle richieste che oggi riceviamo riguardano la gestione dei contratti telepass e quindi ad esempio clienti che restituiscono l'apparato e quindi l'oggetto e per qualche motivo gli vengono addebitati per errore alcuni pedaggi, tenete presente tra l'altro che noi abbiamo 8 milioni di clienti e quindi su 8 milioni di clienti qualche piccolo errore ci può anche essere, se dovesse essere così facciamo di tutto, ripeto se il cliente dovesse dimostrare di avere ragione per trovare un accordo. Oppure gli altri casi sono casi in cui ci può essere esempio una macchina danneggiata per un urto contro un oggetto disperso da un'altra macchina, noi abbiamo come gestori d'autostrada responsabilità di supervisionare e di intervenire prontamente e quindi laddove i tempi non fossero coerenti con quello che invece dobbiamo fare e fossero dimostrati sarebbe nostra responsabilità, vale anche il contrario, non tutte le richieste di conciliazione ovviamente si chiudono con, non vorrei dire la vittoria dei clienti, comunque un accordo a fuori dei clienti dipende ovviamente se sono richieste motivate o meno. Quanto costa la procedura e come va presentata la domanda? La procedura non ha alcun costo e tra l'altro per accedere alla procedura di conciliazione in realtà noi pensiamo che il primo step sia quello di scrivere una lettera o un reclamo all'autostrada perché già nella gestione dei reclami che quindi è una procedura più semplice proviamo a risolvere il problema. Nel caso in cui questo non dovesse essere fatto i clienti possono o presentare, esiste un modulo specifico che proprio per la procedura di conciliazione che si può scaricare sul sito di autostrade.it, si può richiedere alle associazioni dei consumatori oppure nei punto blu, quindi un modulo che va compilato spiegando qual è il problema e poi inviato a Autostrade per l'Italia e poi si discute entro 60 giorni, si fa di tutto per trovare un accordo e vedere chi ha ragione e chi ha torto. Cosa succede se la procedura va a buon fine e viceversa se non viene trovato un accordo? In realtà è lo stesso, cioè dicevo prima ci si siede a tornare un tavolo e si vede se è motivato o meno la richiesta dei clienti, se non si trova l'accordo significa che da parte nostra riteniamo che non ci siano i requisiti minimi per avere diritto a un rimborso e quindi in questo caso ovviamente i clienti hanno a quel punto diritto, se vogliono, a portare il tema su altri tavoli, dicevo prima coinvolgendo avvocati o altre figure professionali. In realtà ad oggi l'accordo lo troviamo quasi sempre perché? Perché o il cliente si accorge che la richiesta è motivata, perché deve portare, in alcuni casi accettiamo anche autocertificazioni, quindi se i dati sono oggettivi vanno bene, oppure se noi, come dire, constatiamo che il cliente ha ragione non abbiamo nessun problema a riconoscere quanto dovuto. Ringraziamo l'ingegnere Iossa per aver accettato il nostro invito e tutti voi per l'attenzione.